Allora, io sono un medico, niente, io voglio dire solo questo, che il coronavirus sta andando a scomparire, il piccolo sta arrivando, niente, e io mi auguro presto che arriverà presto questo vaccino per farcelo e vediamo un poco che cosa si può fare, perché chiaramente ognuno di noi si è scocciato di fare quello che bisogna fare, comunque io sto lavorando per voi, sto lavorando per noi e poi sto lavorando anche per voi, perché chiaramente uno si è scocciato di stare in quarantena e via discorrendo, comunque io l'unica cosa che vi posso dire è non uscire ancora di casa, aspettate il giorno 4 maggio per uscire e poi penso che dopo si ritornerà tutta la normalità come prima, che uno può uscire, può andare, può venire, chi può andare al lavoro, chi non ci va e via discorrendo. Comunque io sono un medico, un medico ginecologico e niente, io vi auguro solamente che questa cosa passi presto e niente, io voglio, anzi desidero che ci incontreremo presto tutti quanti in mezzo alla strada, ci abbracciamo e via discorrendo. Un bacio da parte mia, vi auguro una buona giornata e vediamo un po'.